Rivas, i problemi fisici, gli unici che possono davvero fermarti, sono alle spalle o sono sempre in agguato? No, no, ormai sono alle spalle, io so che sempre devo avere un po' di cura su di me, su quell'aspetto, quindi faccio gli esercizi, faccio tutto quello che devo fare, però no, sono ormai dimenticati, spero quest'anno veramente sia quello importante. Ventura, peraltro, credo che di fatto ti garantisca un posto sulla fascia sinistra, questo credo sia fuori discussione, sia un titolare a tutti gli effetti. No, lo so, lo so che il mister ha fiducia a me, lo devo guadagnare come tutto, ci siamo una rossa importante, sono arrivati i giocatori importanti, quindi uno deve in allenamento guadagnare il posto. Un bel gol al Cittadella lo ha riportato l'altra sera a San Siro. È stata un po' una circostanza impossibile, era un po' diverso la partita, le scene un po' diverse, però sì, sì, mi ricordo a San Siro, spero, spero quest'anno, tutto quello che non ho potuto fare l'anno scorso per dei problemi, farlo quest'anno. Nell'uno contro uno è più importante la velocità o la capacità di dribbling? No, dipende, penso che ci sono diversi, magari Alba è uno che va più sul lungo, io sono un po' più sul corto, c'è un dribbling un po' più corto, lui ha più velocità, quindi sono diversi, il mio è un po' più in corto.